Un momento artistico questa sera nella Basilica di Santa Croce, un momento di musica e di arte per aprire ufficialmente il periodo del Natale ma anche per ricordare San Vincenzo Romano. Sì, ci sono queste due felici coincidenze. Il Natale, San Vincenzo era un appassionato del Natale, il suo cuore palpitava, basti pensare quello che lui dice commentando il terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Dice così San Vincenzo, entra anche tu nella grotta di Betlemme e considera chi è quel bambino che è su quella paglia. Ecco così, anche attraverso questo concerto col coro iubilate Deo nei 192 anni del pio transito di San Vincenzo. Entriamo nelle celebrazioni del Natale ma è bello ricordare anche il pio transito del 20 dicembre 1831 quando tutto il popolo torrese diceva si è chiusa quella porta quella bocca di paradiso. È morto il santo parroco, il santo parroco è morto. Però San Vincenzo è stato sempre vivo in mezzo al suo popolo. E io sono lieto perché poi gli amici del coro iubilate Deo, ecco stasera, fanno anche un pezzettino del Tedeum anche su mia richiesta perché io ritengo sempre che dobbiamo imparare a dire grazie, dire grazie a Dio e la Chiesa nei momenti solenni quando vuole dire grazie non so come a fine anno oppure quando c'è un momento particolarmente solenne canta il Tedeum e così anche stasera. Io poi nel mio cuore metto il ringraziamento come abbiamo fatto l'altra sera per tutte le celebrazioni di quest'anno dell'Immacolata ma anche per tutti i doni di grazia che il Signore ci conceda attraverso l'intercessione del nostro santo parroco. Quali saranno i momenti peculiari, i momenti salienti del Natale 2023 nella Basilica di Santa Croce? Abbiamo innanzitutto i momenti liturgici, la tanto attesa della messa della vigilia del Natale il 24 alle 17 dopo la messa poi c'è la processione con l'immagine di Gesù bambino e l'inaugurazione dei due artistici presepi. Al mattino con i bambini della Catechesi e con i giovani dell'oratorio faremo una processione con l'immagine di Gesù bambino dopo la messa delle 10 e 30 dalla Basilica in oratorio. E poi ci sono molti momenti di incontro culturale. Il 26 sera ci sono i canti del Natale nella lingua napoletana. Il 27 abbiamo il recital dei bambini dell'oratorio. Il 30 un grande evento con musica da camera, con un'orchestra. Insomma ci sono. E poi il 31 alle 17 la messa solenne col Tedeum di fine anno. Il 30 un grande evento con musica da camera, con un'orchestra.